Il raffreddore di Amos per bacco di Erin Stead edizioni Babalibri Amos per bacco era un tipo mattiniero. Tutti i giorni, quando la sveglia suonava, lui dondolava le gambe fuori del letto e indossava l'uniforme appena stirata al posto del pigiama. Caricava l'orologio e metteva un bollitore sul fornello. Poi si rivolgeva alla zuccheriera dicendo Un cucchiaino per i miei fiocchi d'avena, per favore, e due per il mio tè. Sazio e pronto per la giornata di lavoro, usciva con calma dalla porta di casa. Come tutti i giorni, aspettava l'autobus numero 5. Prossima fermata, lo zoo! Annunciava l'autista. Le sei in punto. In perfetto orario. Amos aveva molto da fare allo zoo, eppure trovava sempre il tempo per una visita ai suoi amici. Giocava a scacchi con l'elefante, che pensava e ripensava prima di ogni mossa. Faceva una gara di corsa con la tartaruga, che non aveva mai perso. Sedeva calmo e tranquillo accanto al pinguino, che era molto timido. Prestava il fazzoletto al rinoceronte, che aveva sempre una goccia al naso, e al tramonto leggeva una storia al gufo, che aveva paura del buio. Un giorno, Amos si svegliò e starnutì, tossì e rabbrevidì. Dondolò le gambe indorenzite fuori dal letto, ma le ritirò subito sotto le coperte, dicendo «Oh, penso proprio che oggi non andrò a lavorare». Nel frattempo allo zoo, gli animali aspettavano il loro amico. L'elefante mise in ordine i pedoni e lucidò le torri. La tartaruga fece i suoi piegamenti e allungamenti. Il pinguino restò seduto, calmo e tranquillo, tutto solo. Il rinoceronte si preoccupò che la sua allergia potesse peggiorare. Il gufo rimase seduto in cima a una pila di libri, grattandosi la testa preoccupato. «Dove è Amos?» si chiesero gli animali. Più tardi, quel giorno... «Urra! Sono arrivati i miei amici!» L'elefante preparò la scacchiera. Amos pensò e ripensò prima di ogni mossa. «Oggi mi sento troppo stanco per correre», disse Amos alla tartaruga. «Perché non giochiamo a nascondino?» La tartaruga si nascose nel suo guscio, Amos sotto le coperte. Poi Amos sbadigliò. «Potrei schiacciare un pisolino!» Il pinguino restò seduto, calmo e tranquillo, tenendo al caldo i piedi di Amos. «Ecci!» Amos si svegliò con uno starnuto e il rinoceronte era già pronto con il fazzoletto. «Comincio a sentirmi molto meglio! Grazie!» Disse Amos ai suoi amici, dolorando le gambe fuori dal letto. «Forse potremmo bere insieme una tazza di tè!» Amos caricò la sveglia. «Oh! Si sta facendo tardi! Dopotutto domattina abbiamo un autobus da prendere!» Così Amos disse buonanotte all'elefante, buonanotte alla tartaruga, buonanotte al pinguino, buonanotte al rinoceronte e buonanotte anche al gufo che, sapendo quanto Amos avesse paura del buio, lesse ad alta voce una storia prima di spegnere la luce. Grazie a tutti!